Ciao a tutte, bentornate sul canale e benvenute in questo nuovo video. Davanti a noi abbiamo il catalogo promozionale C2 di Stenum con offerte ordinabili da oggi, 17 gennaio, fino al 27 di gennaio. Come vi avevo anticipato nel video dei prodotti finiti che vi lascio nelle schede, ritorna il pre-wash, l'ultrapotente con un'innovativa formula ancora più green. Andiamo subito a sfogliare il catalogo per scoprire tutte le novità e le super offerte che ci riserva. La prima offerta è la Promo Fiera del Bianco con una spesa minima di 19,99€ tra i prodotti da pagina 6 a pagina 15. Per te il Pursoft ha un prezzo unico, soli 2,99€ invece che 12. Il Pursoft è un ammorbidente concentrato, lo troviamo in due fragranze, ovvero nota freschezza di gelsomino e nota vaniglia orientale. Copriamo i prodotti per avere questo prodotto a 2,99€. Il primo è il daily wash, che è il detersivo bucato bianchi e colorati, per un bucato di tutti i giorni. Li troviamo in tre fragranze, soli 6,90€ l'uno, col 43% di sconto e sono un litro e mezzo di prodotto. Vi lascio nelle schede il video dove vi mostro tutti i prodotti che utilizzo per il bucato marchiati Stenom. Come vi avevo anticipato in copertina, ritorna il pre-wash, smacchiatore pre-lavaggio, ideale per macchie estese grazie allo splusso a larga diffusione. Elimina in profondità le macchie più incrostate, già a 30 gradi, grazie alla sua formula efficace. L'uno lo troveremo a soli 9,50€, mentre in offerta set più acquisti e più risparmi, 3 a soli 19,99€ col 43% di sconto. Ha anche un profumo intenso, fresco e a lunga durata. Passiamo ad altri detersivi, ad esempio il Modern Wash, che è un detersivo esperto sintetici, che è un'azione anti cattivo odore, ideale per gli indumenti sportivi e camice ed è efficace anche a freddo. 750ml a soli 8,90€. Lo stesso quantitativo e allo stesso prezzo troviamo il Black Wash, che è un detersivo esperto neri e scure, che deterge e mantiene intensi i colori scuri. Passiamo al sapone solido, che è anche uno smacchiatore bucato, senza profumo, senza coloranti ed è senza plastica, da 100 grammi, è il laundry soap a soli 7,50€. Mentre l'additivo di lavaggio protezione di colore, ovvero il color to color, che lascia i colori intensi e aiuta a evitare la cernita del bucato, un litro a soli 11€ ed ha un'azione anti trasferimento. Un altro ammorbidente, questa volta anche disinfettante concentrato, con presidio medico chirurgico, è il Sunny Soft da un litro. Disinfetta e ammorbidisce il bucato a soli 12,50€. In offerta top abbiamo anche il Tri-Heat, che è un pulitore concentrato superpotente per pulizie difficili. Due azioni in uno, perché deterge per le pulizie pesanti sia all'interno che all'esterno della casa, oppure un additivo di lavaggio per tessuti resistenti. A soli 7,90€ un litro. Passiamo alla cucina delle Magic Spiral. All'interno abbiamo due spirali disincostanti multisuperfici, ideali per pentole, padelle, lavelle e stoviglie. Grazie allo speciale acciaio inossidabile ha una maggiore resistenza alla corrosione e disincrosta senza graffiare. A soli 10€. Poi abbiamo Multi Surface, che è un pulitore cucina multisuperficie da 500ml per tutte le superfici lavabili della cucina, piano di lavoro, tavola, eccetera. Il gesto espresso per pulire e sgrassare. Lo abbiamo in offerta set insieme a Trigger, che è il nebulizzatore per flacone di ricarica. Tutti e due a soli 9,50€. Passiamo alla lavastoviglie. Abbiamo in offerta le Dish Tab. Sono pastiglie lavastoviglie tutte in uno, perché hanno tre azioni. Detergente brillantante e sale rigenerante. All'interno ne troviamo 30, a soli 12,50€. Mentre per il frigorifero abbiamo Antiodor Fridge, un deodorante frigorifero. All'interno abbiamo un contenitore e tre ricariche. Elimina i cattivi odori provenienti dal cibo senza alterarne il gusto, a soli 8,50€. Passiamo alle pulizie pesanti. Abbiamo Active Drain, un disgorgante potente scarici con soda caustica. Libera rapidamente gli scarici senza fatica otturati, grazie alla sua formula a base di soda caustica. 11,50€. Passiamo alla cura dei materiali e abbiamo ad esempio Cooper & Brass, una crema antiossidante per rame, bronzo e ottone. 10,90€. E poi abbiamo il famosissimo Window Spray, che è un pulitore vetri antidepositante ed è speciale per i vetri esterni. Rapido e potente pulisce in un lampo i vetri dallo sporco più difficile grazie alla sua formula speciale Stenum. L'avremo in offerta insieme ad Extra Shine, che è il panno anti-aloni, vetri e superfici vetrate. Tutti e due a soli 18,50€. Continuiamo con Stenum Family Expert, che in offerta il sapone Surgras. Delicate Soap da 80 grammi. È un sapone solido, super nutriente, che deterge con delicatezza viso, corpo e mani a soli 6,90€. Soft Shower invece è in formulazione liquida ed è un gel doccia corpo e viso per tutti i tipi di pelle. 750ml a soli 9,90€. Poi abbiamo Sweet Lips, un balsamo labbra morbido, idratante e protettivo. Uno lo pagheremo 5,50€, mentre due in offerta set a 9,50€ oppure tre in offerta set a 11,70€ col 40% di sconto. Come deodoranti abbiamo quelli in formato spray in offerta, in profumazione soft, fresh oppure nella profumazione sport. L'uno ha soli 6,50€ e sono 100ml. 48 ore di protezione garantita contro l'odore del sudore. In offerta anche Ideo Roll On, nella fragranza soft e fresh, 50ml. Hanno un'azione antitraspirante, efficace antimacchia e anti-aloni ed arricchiti con cold cream. L'uno ha soli 9,50€. Per il viso abbiamo Clear Spot, un trattamento purificante e imperfezioni che accelera il riassorbimento di brufoli e punti neri. A soli 5,90€, 10ml. Mentre per i capelli abbiamo lo shampoo Balance in offerta. Uno shampoo antiforfora riequilibrante. Elimina forforo e prurito dal primo utilizzo. 200ml a soli 8,50€. Passiamo alla linea Fit Care. Abbiamo in offerta il Pediluvio Rilassante da 100ml con un'azione rilassante a soli 7,50€. Oppure abbiamo Coolapid, un gel freschezza gambe e piedi stanchi. dona una sensazione di leggerezza. A soli 7,90€ 200ml. Abbiamo in offerta anche gli spazzolini per i denti. 3 a soli 12,90€. Abbiamo un'altra promozione. Per te il tacquino Cacharel. Spero di averlo pronunciato bene. Con una spesa minima di 18,90€ tra i prodotti della selezione da pagina 48 a 66 avrai il tacquino a soli 5,90€. Copriamo i prodotti per avere questo tacquino. I primi prodotti sono gli Steinwick, deodoranti per ambienti con stoppino da 250ml. Quattro profumazioni disponibili, assorbono i cattivi odori e profumano a lungo. Uno stoppino regolabile ha due postuzioni per regolare la diffusione del profumo. Assorbe anche gli odori più tenaci come ad esempio WC fritto e fumo. L'uno ha soli 8,50€. Per spolverare abbiamo in offerta Quick Polish che è un pulitore elimina polvere protettivo a molti superfici. Lascia una pellicola protettiva contro la polvere, impronte e macchie d'acqua. Ideale per la pulizia dei mobili. 400ml ha soli 8,90€ e dà una profumazione fresca e floreale. Per i materiali abbiamo Furniture Cream, una crema di bellezza per mobili in legno. Ideale anche per mobili antichi e moderni. Anche questo lascia una pellicola protettiva contro la ricomparsa di macchie ed impronte 9,50€ e 250ml. Passiamo ai prodotti bagno. Il primo è il Bat Cleaner da un litro ed è un pulitore quotidiano bagno. Elimina rapidamente lo sporco quotidiano da tutte le superfici del bagno, 9,50€. E poi abbiamo Express Shine che è l'anticaccare bagno da 500ml. Lo avremo in offerta con il nebulizzatore per flacone di ricarica, tutti e due a soli 8,50€. Decalcifica e lucida in un minuto, senza bisogno di strofinare. Passiamo alla cucina. Abbiamo il famosissimo D-Greaser in offerta da un litro ed è uno sgrassatore congedrato stoviglie e superfici. È un 2 in 1 perché è un detersivo per il lavaggio delle stoviglie a mano. È uno sgrassatore universale che possiamo utilizzare puro o diluito. Ha una formula magia grasso che scioglie lo sporco rapidamente e in pochi secondi. In offerta a soli 7,50€. Possiamo utilizzarlo ad esempio con il Kitchen Sponge che è una spugna double fast in microfibra con una parte grattante e una parte in microfibra. Al prezzo mai visto prima a soli 6,90€. Un prodotto della linea Stenon Family Expert in offerta è il famosissimo cremone ovvero l'Orpulpous, una crema ricca nutriente da 300ml che previene la disidratazione. Il nutrimento ideale per pelli normali e secche e all'interno al 98% di ingredienti di origine naturale. 11,50€. Della linea Chiotis abbiamo in offerta il rituale Gourbain alla profumazione di bacche rosa e vaniglia. Di questa linea abbiamo il crema doccia 200ml a 7,50€. L'esfoliante corpo sabbioso 220ml a 12,50€. E allo stesso prezzo abbiamo anche il latte corpo da 150ml. Di Flormar abbiamo in offerta il Midnight Matte Eyeliner. Eyeliner in penna opachi. Abbiamo quattro colorazioni disponibili. Sono waterproof, durano 24 ore, non sbavano e hanno un'asciugatura rapida. 8,90€ l'uno. Della linea Dr. Pierricot abbiamo la crema lifting collo e décolleté da 50ml alla vitamina B3 e biopolimero di mandorle dolci. 17,90€. Abbiamo una super novità ovvero il nuovo fondotinta Glow alla vitamina C e niacidamide che è una texture leggera e sensoriale dalla comprensa leggera che garantisce un risultato perfetto sulla pelle. Abbiamo tre colorazioni disponibili. L'uno ha 24,50€ e sono i classici 30ml. Poi abbiamo in offerta la crema effetto Glow luminosità, levigatezza ed energia 40ml alla vitamina C e niacidamide a 32,50€. Possiamo anche acquistarlo in offerta set crema più fondotinta Glow a soli 51,90€. Continuiamo con la linea trattamento lifting rassodante. In offerta abbiamo il siero attivatore niacidamide 30ml a 39,90€. Il contorno occhi 15ml a 17,50€. E infine la crema lifting niacidamide 40ml a soli 39,90€. Continuiamo con la maschera Glow vitamina C alla vitamina C e acqua di limone bio 17,90€ e sono 50ml. Un'altra maschera in offerta è la maschera lifting effetto tensore rapido 50ml con frazione pura di lino e all'anneto 17,90€ 50ml. Della linea trattamento rigenerante notte abbiamo in offerta la lozione esfoliante notte rigenerante illuminante agli alfa idrossiacidi 125ml 17,50€. Il contorno occhi da 15ml ai probiotici 18,90€. E infine la crema rigenerante detossificante notte 40ml ai probiotici a 42,50€. In edizione limitata abbiamo il trattamento antirughe barriera antistress multiazione. Sono 4 ampolle da 10ml concentrato di acidi ialuronici a soli 44,90€. Il trattamento dalla durata di 4 settimane ovvero un tubetto a settimana. Passiamo al trattamento nutriimento intenso. Di questa linea abbiamo la crema rigenerante 50ml all'estratto di corteccia d'acero agli omega 3, 6 e 9 a 35,90€. Dei prodotti in super offerta. Passiamo alla linea Chiotis e abbiamo subito in offerta due prodotti per l'uomo. Il primo è il profumo sport home 100ml a 23,50€ ed è possibile acquistare anche il suo gel doccia corpo e capelli 200ml a soli 6,90€. Sempre per lui abbiamo la linea home. Ad esempio il trattamento idratante viso uomo 75ml a 9,50€ e allo stesso prezzo abbiamo la schiuma da barba da 150ml. Il gel doccia corpo e capelli da 200ml costerà 7,90€ e il fine il deodorante 48 ore da 100ml a 9,50€. Questa linea è alla lavanda e alla cinna mosma. Passiamo alla pulizia del viso. Abbiamo in offerta lo struccante bifase waterproof occhi e labbra alla lavanda a 100ml a 5,90€. E abbiamo l'olio detergente della linea Defi Detox Anti Smog 200ml a soli 8,90€ ma li possiamo acquistare anche in offerta set ovvero lo struccante più l'olio detergente a 13,90€. Della linea Rituali abbiamo il rituale rilassante con lavanda e bergamotto. Di questa linea abbiamo all'interno l'esfoliante corpo al sale 220ml a 12,50€, l'olio secco 98ml a 9,90€ e infine il gel doccia 200ml a 6,90€. Ritornando alla linea Defi Detox abbiamo il trattamento anti smog giorno da 50ml a soli 16,90€. La linea Genesse Revele abbiamo in offerta il trattamento intenso anti rughe notte 50ml a 26,90€ mentre le due creme giorno ovvero il trattamento velutato anti rughe giorno oppure il trattamento rinco anti rughe giorno 50ml l'una a soli 24,50€. Passiamo alla linea Prestige abbiamo in offerta la creme essentielle un trattamento giorno e notte 50ml a 39,90€ oppure abbiamo le sublime essentielle 30ml a 14,90€. Continuiamo con la linea Hydra Splash di questa linea abbiamo il gel micellare idratante 100ml a 6,90€, il water drop idratante 48 ore giorno 50ml a 20,50€ e poi abbiamo un'offerta sulla crema idratante 48 ore giorno 50ml e sul trattamento idratante notte 50ml l'uno a soli 17,50€ oppure due a 31,50€. possiamo scegliere due prodotti uguali o diversi tra loro. Passiamo alla linea Flormar e abbiamo in offerta Liro Volume Curl Mascara un mascara volumizzante e incurvante con una formula speciale che volumizza incurva le ciglia e permette una tenuta sbalorditiva a soli 16,90€. Le matite le prime sono le Smoky Eye Eyeliner che sono waterproof e danno l'effetto Smoky con una texture morbida e sfumabile grazie alla spugnetta incorporata. 5 colorazioni disponibili a 8,50€ oppure abbiamo le matite Style Matic Eyeliner, matite occhi retraibili, waterproof lunga durata e non sbavano e abbiamo 4 colorazioni disponibili a 7,50€. Passiamo alle labbra e abbiamo i Color Master Lipstick, un rosetto colore pieno con una texture cremosa idratante, un finish opago e sono a lunga durata. Abbiamo 7 colorazioni disponibili a soli 8,90€. All'interno abbiamo la Vitamina E e il burro di Karité. Passiamo alle unghie, abbiamo due basi in offerta a 5,50€ l'uno, 11ml. La prima è la Max Growth che è una super crescita, mentre la seconda è l'Extra Day ovvero una manicure extra durata. Altre due basi in offerta a 3,90€ sono la 4 in 1 Complete Care 11ml, un trattamento unghie completo per rafforzare la struttura dell'unghia. Allo stesso prezzo abbiamo Calcium Gel da 11ml, rafforza le unghie e ne previene il danneggiamento. Poi abbiamo Care & Go Nail & Cutic Oil, un olio unghie e cuticole a immersione a 5,90€ 20ml. Passiamo al make up del viso e abbiamo la palette correttori 5 in 1, 5 correttori dai benefici specifici per correggere tutte le imperfezioni della pelle 10,90€. L'Invisible Lose Powder da 18g è una cipra libera trasparente a soli 13,50€ e come fondotinta abbiamo in offerta l'Invisible Cover HD Foundation, invisibile e ad alta definizione. Tre colorazioni disponibili, ha una copertura da leggera media, ha un finish luminoso effetto seconda pelle ed ha un SPF 30 a soli 14,50€. Una novità è il nuovo correttore che è lo Stay Perfect Concealer, un correttore comprensa perfetta. Idrata la pelle e aiuta a levigare e attenuare la comparsa di rughette e linee d'espressione. Applicazione semplice grazie al morbido pennellino formato jumbo. Ha una texture liquida e cremosa, una copertura piena e un finish naturale. Tre colorazioni disponibili, l'uno ha soli 8,90€ in offerta lancio. E chiudiamo questo catalogo con un prodotto della linea Stenon Family Expert per le mani, SOS mani, soluzioni antigelo. Un balsamo mani grande freddo per mani molto secche e rovinate, ovvero Winter Balm 50ml. Ripare e lenisce le screpolature delle mani. Massima protezione dal freddo testato a meno 16 gradi. 4,99€ 50ml. E con questo prodotto si chiudono le offerte del catalogo promozionale C2 di Stenon, che vi ricordo che ha offerte ordinabili da oggi 17 gennaio fino al 27 gennaio 2023. Vi ricordo se volete diventare Stenon Smile e avere il 18% di sconto su tutti i prodotti Stenon. Nell'infobox troverete il link Diventa Smile, compilate tutti i vostri dati e nel codice presentatrice inserite il mio, così io vi posso aiutare in questa grande avventura. Per qualsiasi domanda potete scrivermi qua sotto nei commenti oppure mi potete trovare nei social, ovvero Facebook e Instagram, dove pubblico spesso foto, post, story e reel. Vi aspetto anche lì, anche dei social, trovate i link qua sotto nell'infobox. Se non lo siete ancora, iscrivetevi al canale e azionate la campanella così da non perdere nessuno dei miei video e se questo video vi è piaciuto e volete altri video dei cataloghi Stenon, basta lasciare un bel pollice in su. Vi mando un grande bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!